Buongiorno, sono Davide Bacchina, sono il coordinatore della Commissione Industria, Innovazione e Resilienza dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia. La nostra commissione si è composta da una decina di ingegneri. Ci occupiamo di affrontare le tematiche tipiche dell'ingegnere industriale, quali ad esempio l'innovazione di processo, l'aggiornamento normativo tecnico, la ricerca applicata ed in questi ultimi anni è un tema che ha coinvolto molto l'impresa, ovvero il piano transizione 4.0. Essendo i temi prevalentemente a carattere non locale, ci coordiniamo anche e collaboriamo con le altre commissioni della regione, in particolare con il FOIV, che è la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Tra le iniziative che abbiamo sviluppato in questi ultimi periodi c'è da segnalare il convegno che abbiamo organizzato in collaborazione con Confindustria sul nuovo regolamento macchine e poi l'iniziativa che è il coinvolgimento della Regione Veneto al fine di far sì che il nostro ordine fosse coinvolto nello sviluppo della strategia di specializzazione intelligente S3, che è lo strumento che la Regione Veneto utilizza per le iniziative regionali in abito innovazione. Stiamo ora sviluppando dei convegni, corsi nell'ambito della Cyber Security e poi sul nuovo albo di certificatori per le attività di ricerca e sviluppo e inoltre sul piano Industria 5.0.